Il prefetto di Kaltanissetta, dottoressa Chiara Armenia, ha presieduto nel tardo pomeriggio di ieri una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata a monitorare la situazione gelese. Alla seduta, oltre ai vertici delle forze dell'Ordine, ha preso parte anche il sindaco di Gela. Nel corso dell'incontro, il prefetto ha dato atto dell'effettiva intensificazione dei controlli nel territorio gelese, disposta all'esito della riunione della scorsa settimana, e ha fornito chiare e precise direttive affinché gli stessi siano ripetuti con costanza in una logica strategica volta ad evidenziare la presenza costante dello Stato sul territorio. Nella circostanza, peraltro, il prefetto ha fortemente auspicato che la comunità gelese reagisca all'attuale situazione collaborando fattivamente con le istituzioni in uno spirito di cittadinanza attiva che vuole vedere i tanti cittadini gelesi onesti e rispettosi della legalità essere parte attiva del sistema integrato di difesa del territorio.